Ciao a tutti, sono Marco Grana, responsabilità tecnico della C-58 Squadra Corse. Potete vedere qualche mio video on board di kart su qualche circuito italiano. Spero vi piacciono e come me avete passione dei motori di racing in generale. Per qualsiasi cosa contattatemi su Instagram e ci scambiamo qualche info racing. Ciao ragazzi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!